Musica Durante la seconda edizione dell'evento del convegno del gruppo edema osseo di agnosi e interventi terapeutici si parla anche di protesi e di salute dell'osso periprotesico e noi ne parliamo insieme al professor Molfetta per capire meglio il punto di vista del chirurgo ortopedico Allora professore, cos'è che succede all'osso dopo l'intervento di protesi? L'osso durante l'intervento di protesizzazione viene a interfacciarsi con una struttura uno strumento di densità e di sollecitazioni meccaniche totalmente diversa dalla sua realtà di osso quindi si crea un'interazione che deve vivere nei prossimi vent'anni e questa interazione vede la protesi struttura inerte e l'osso invece struttura vivente cioè soggetto a tutte le possibili variazioni in rapporto alle circostanze che di volta in volta il paziente viene a subire motivo per cui un paziente che viene protesizzato ad una certa età e che successivamente ha bisogno di una terapia cortisonica nel lungo termine vede modificato l'assetto metabolico dell'osso periprotesico che va preso in considerazione perché l'interazione in quel momento subisce una variazione importante questo è lo scenario di quella che noi chiamiamo l'osteointegrazione periprotesica che è insomma una falsa definizione che significa che osso, struttura vivente e protesi, strutture inerte devono convivere serenamente per tanto tempo senza provocare dolore al paziente Ecco però dopo l'intervento cos'è che fa l'ortopedico? Come segue il paziente? Ci sono dei problemi, li riassumiamo rapidamente il paziente può giungere all'intervento con un osso molto sofferente è quello di cui parliamo oggi, l'edema osseo come espressione di una sofferenza ossea anche nell'artrosi che non è solo la malattia della cartilagine quindi giunge con questa sofferenza scheletrica una volta impiantata la protesi, tutte le protesi del mondo in qualsiasi articolazione di per loro subiscono un abbassamento del tasso di densità minerale quindi al primo danno preoperatorio potrebbe assommarsi un secondo danno postoperatorio e quindi un decremento del... a quel punto l'osso fatica a recuperare queste due situazioni sarebbe quindi utile aiutarlo facendo la cura preoperatoria di quell'edema osseo nell'artrosi e arrivare all'intervento in condizioni migliori e successivamente curare anche questa perdita d'osso che di default interessa tutte le protesi allora avremmo una tonicità dell'osso migliore rispetto a quello che generalmente può accadere ecco il concetto di tutela dell'osso farmacologica cioè noi assistiamo l'osso prima dell'intervento, durante l'intervento e nella vita successiva come dicevamo, qualsiasi elemento che modifichi l'aspetto metabolico dell'osso va considerato anche in quell'articolazione perché in quell'articolazione in particolare l'osso per la presenza della protesi ha un rapporto diverso con il suo metabolismo e anche in questo caso esistono dei farmaci che possono tutelarlo quindi andando un po' più sul pratico, cos'è che andrebbe realmente fatto? esistono farmaci che appartengono alla categoria dei bisfosfonati che sono i principali alleati nella cura dell'osteoporosi in generale che noi utilizziamo proprio per la tutela farmacologica in particolare il clodronato che è una molecola strabiliante dal punto di vista delle sue proprietà farmacocinetiche e che ci consente proprio di supportare l'osso nel preoperatorio nel postoperatorio immediato e laddove ci fossero delle esigenze durante la vita della protesi qual è la spia per cui noi possiamo intuire può essere sia radiografica ma ancor più clinica il paziente che comincia ad avere un dolore all'anca protesizzata quella è una spia clinica estremamente importante che pone in allarme il chirurgo che valuta meglio l'osso per i protesi più che la protesi come posizione morfologica e pone in essere questo supporto farmacologico utilizzando in particolare il clodronato grazie a tutti grazie a tutti